Iniziano i lavori per la realizzazione degli interventi di efficientamento energetico e ammodernamento alla scuola dell'infanzia della frazione Chieve nel comune di Giffoni, Valle Piana. L'intervento avrà ad oggetto l'installazione di nuovi impianti di riscaldamento, nuovi infissi, il rifacimento del cappotto per l'isolamento termico delle pareti, la sostituzione della copertura e dei sistemi di illuminazione. La scuola, afferma il sindaco Antonio Giuliano, è una priorità della nostra attività amministrativa, sia da un punto di vista formativo, sia da quello degli investimenti sugli edifici scolastici. Ogni anno investiamo per migliorare le nostre scuole, sia con la manutenzione ordinaria, sia con quella straordinaria.